Eccoci qua in un nuovo video dove vi mostrerò come modificare uno Zeus Alba ossia questo petardo di merda prodotto da Borgo Novo e possiamo anche definirlo un errore di fabbrica dato che è l'esclusione interna quindi passiamo subito alla modifica allora prima cosa si prende il petardo e si estrae la miccia così fino a qua non c'è nessun problema dopodichè sarà molto semplice basta prendere due sassolini più o meno questa grandezza e inserirci lì dentro schiacciando più che potete facendo questo nella parte posteriore ok dopo aver premuto i sassi la strappa nella forbice e fare un piccolo buchino più o meno dove c'era scritta a mettere un buchino qui ci andiamo ad inserire la miccia ed ecco qua che il nostro petardo è fatto dopo aver messo la miccia se volete creare ancora più pressione basterà prendere la colla e andarcela con un vetrino a spalmare sopra toppando definitivamente il buco ora testiamolo e mettiamolo a confronto con uno zeusabolo normale buona visione buona visione buona visione grazie